Ragazzi, scusate la miss, ecco però in vacanza tutto vale, mi raccomando commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui, attivate la campanella Domani mancheranno 19 giorni all'inizio del campionato del Milan, lo ricordo, nel frattempo aggiornamento della Francia, dell'equipe su Fofanà L'equipe scrive una cosa un po' strana, cioè che Fofanà si avvicina al Milan, però il Milan ha offerto 17 e il West Ham ha offerto 35 Quindi il Monaco vuole un'offerta più vicina ai 35 del Milan, con il giocatore che non vuole andare al West Ham, che non fa neanche la Champions, ma vuole andare al Milan Insomma, la situazione è un po' particolare, da una parte dicono si avvicina al Milan, dall'altra però il West Ham sembra offrire 35 Mi ricordo un po' però anche altre situazioni in cui c'erano presunte offerte superiori, non mi ricordo quale fosse il club, forse Lione per Pulisic, che poi non era così Quindi magari è un tentativo residuo di cercare di alzare la stima, la valutazione e l'incasso da parte del club francese Sembra di fatto una velina fatta filtrare dal Monaco, appunto, all'equipe che è in Francia, insomma, è un po' come la gazzetta in Italia Vediamo cosa succede, si avvicina però, però sostanzialmente credo di, provo a interpretare un po' il pezzo, bisogna alzare la parte cash Quindi, magari avvicinarsi ai 20, detto questo 35 è una cifra folle Se West Ham paga 35 il giocatore va lì, credo Però, vediamo che cosa succede Questa dunque è la situazione, oggi ho circolato anche un altro nome di un giocatore che fa la Championship Al momento, sinceramente, non ho conferme, in questo senso Dall'estero danno molto vicino al Milan, non ricordo neanche il nome molto particolare Quindi, vediamo se questo articolo su Fofanas muove un po' le acque La sostanza è però che il Milan deve alzare l'offerta e provare, insomma, a chiudere 17 sono pochi, non 35 ma bisogna alzare Magari fai 20 più buono se si chiude Però, in fretta, perché il campionato domani saranno 19 giorni dall'inizio Un saluto